Siamo seduti qui su questa panchina che rappresenta il nuovo salotto all'aperto che arricchisce la nostra città. Il nostro centro di iniziativa culturale Rosselli ha voluto oggi arricchire la nostra imperia di questo salotto all'aperto. Salotto all'aperto, una panchina, delle panchine, un salotto che ricorda un viaggio che è nato qua alla fine del 1800 e che inaugurò questo importantissimo gabinetto culturale che nel 1800 divenne veramente una grossa risorsa culturale. Vogliamo ricreare qui un salotto, infatti vedranno i prossimi mesi tutta una serie di iniziative che noi andremo a curare, a promuovere e arricchire quindi la nostra città di eventi. Ad esempio? Ad esempio presenteremo dei libri, arriveranno da noi scrittori che presenteranno questi libri, a breve comunicheremo anche tutto il calendario, ci saranno anche degli eventi musicali, degli eventi teatrali. Avremo come partner ufficiali di questo salotto il liceo Vietse, che ovviamente porta il nome del personaggio a curi, del grande scrittore, cultore che a noi abbiamo dedicato a questo salotto. La cosa però molto importante è che tutto questo è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Carige e al sostegno dei commercianti di questa via, che hanno creduto non solo all'avvelimento di questa via ma anche a un arricchimento di eventi culturali.